buongiorno ragazzi oggi il 17 aprile lunedì abbiamo circa 14 gradi e un vento di 2 km orari con raffiche fino a 6 km orari vento da sud quindi uno scirocco abbastanza gradevole non non fa freddo si sta bene anche se mi vedete con la felpa ma si sta veramente bene come vedete lì l'elettroterra abbiamo dei grandissimi nuvoloni neri in effetti dentro a urgente a taurisano sta chiedendo ma qui come vedete si sta veramente molto bene io ragazzi invito ad iscrivervi al canale come sempre attivate le notifiche lasciate un bel like un bel pollice in su spero che questi contenuti siano di vostro credimento io farò spesso come avete visto anche nei video precedenti questa passeggiata sulla spiaggia ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao